Accogliere nuove e ulteriori proposte e possibilità di conciliare le esigenze dei lavori con quelle di chi vive e lavora nella piazza. Questo in sintesi l'esito dell'incontro pubblico a Porta Pia aperto a tutti tra assessore lavori pubblici Ornella Segnalini, la presidente del municipio secondo Francesca Del Bello, impresa, commercianti e residenti. I lavori iniziati lo scorso 31 luglio sono già in piena attuazione. In questi giorni è già in corso il tombamento delle scale d'accesso sotto via e l'impresa sta pianificando le operazioni per proseguire anche con le altre lavorazioni. In questo contesto una delegazione di commercianti ha voluto incontrare Roma Capitale per ulteriori spiegazioni riguardo al progetto complessivo dopo l'ultima riunione pubblica e a seguito dell'inizio del cantiere. In particolare è stato chiesto al comune di fare delle piccole modifiche al cronoprogramma dei lavori per evitare interferenze con le attività durante il periodo natalizio per cui si è stabilito di eseguire la seconda fase subito dopo le festività così da favorire il più possibile la convivenza del cantiere con le attività commerciali e di vita. Inoltre per ragioni legate alla fornitura dei materiali l'impresa ha chiesto un'interruzione dei lavori durante il mese d'agosto. Anche questo aspetto è stato spiegato e pienamente condiviso. Per l'assessore Segnalini il nuovo assetto della piazza sarà un ulteriore passo verso la sicurezza e il decoro dell'area.